Buongiorno, sono Isabel Royce di Allianz Global Investors. Noi in Allianz, in tutto il gruppo, ci crediamo nei investimenti sostenibili e responsabili. Perché? Perché crediamo che il futuro è quello. Perché? Perché sappiamo che la società si sta evolvendo e dobbiamo risolvere certi rischi che non abbiamo risolto fino adesso. Ragione per la quale noi offriamo prodotti sia dalla parte retail che dalla parte istituzionale che possano comprire questi rischi. A noi crediamo che in Italia bisogna fare un passo avanti. Speriamo che il legislatore colga questa opportunità e muoviamo il passo in avanti che così possiamo offrire un mondo più sostenibile a tutti. Grazie a tutti.